Ansa, Roma, 8-8, Nino Bertasio ha offerto una bella prestazione classificandosi 15-0 con 277, 70-69-71-67, meno 11, nell'Alfredo Nillings Championship, European Tour, il torneo che ha anticipato il 74-0 Open Italia, GC Milano, 12-15 ottobre, e che è svolto con formula Pro-Am, un pro e un dilettante, sui tre percorsi dell'Old Course e di S.I. Andrews, di Carnoustie e di Kingsburns, tutti par 72, in Scozia. Ha dominato l'inglese Tyrell Atton, 264-68-65-65-66, meno 24, che aveva già vinto questo evento nella scorsa stagione. Al secondo posto con 267, meno 21, il connazionale Ross Fischer, al terzo con 271, meno 17, il francese Victor Dubuisson, e al quarto con 274, meno 14, lo scozzese Mark Warren, il transalpino Gregory Bordi e l'inglese Robert Rock. Atton ha firmato il secondo titolo nel circuito con un 66, meno 6, a chiudere, frutto di 6 birdie senza bogei, e nelle ultime 54 buche ha messo insieme 20 birdie senza errori. Bel finale di Nino Bertasio, che è prisalito di 15 posizioni con 6 birdie e un bogei per il 67, meno 5.